forte, oltre che volano le mie gabbette. Oggi è la giornata delle gambe, ho fatto una battuta io? Basta, è partita. 77. Ecco, diamo pure i numeri all'otto, magari qualcuno vince. E' 77 sorelle che vede le donne. Eh, vedi? Devo spostarlo sto cosa. Allora, io da una parte tu dall'altra. Aspetta, aspetta. Ok. Oh, però è sul cavo. Aspetta che... No, no! Già è difficile. Devi tirarlo su più che altro, non è che devo andare avanti. Vado leggermente avanti col muletto. Ok, a posto, tira su. Beh, non sono andata così tanto male. No? Ok, tira la leva. Grazie. Salvataggio. Sì. Vengo di là. Arrivo. Qua mi sa che ci dobbiamo continuare. Te. Non è. Allora, qui c'è una leva. Ok, qua c'è un bottone. Vieni qua. Ah, per quel... quel coso là, vedi? Quindi qualcuno deve fare parkour, vai tu. Vado io. Piano con quei pulsanti, eh. Ma io non sto facendo niente, ti sto tirando solo la leva per lasciare... Ok. Aspetta... Vai. Devi attivare anche il letto a più gran qua. E come faccio? Col bottone. La leva... Allora, fai una volta la leva. Fai una volta la leva e basta. Ok. Ok. Perfetto. Aspetta un momento. Tornare indietro tu e svegli... Ma vado un attimo. Beh, esistere, arrivo. Non sto esistendo. Ma guarda che apre la porta, il bottone. Fai a fare questo. Senti, entra nella porta. Ah, quella leva. Quella leva. Ma guarda. Buongiorno, vai. Entra nella porta, non ti è aperta. No, di... Ah. Quindi non serviva niente questa cosa. Serviva sicuramente, ma noi ormai citiamo tutto qua. No. Qua c'è una leva. Sì, la la su. Porta avanti sto coso. Sì, c'è la batteria. Bisogna prenderla. E dei cavi sopra lì. Ok, allora. No. Allora, se non mi ricordo male... Ah, ho capito. No, bisogna andare di là. Prendere la batteria. Ok. Però se becchi qualcosa lì non ci entra, vedi? Aspetta, eh, che qua... Qui si muove. Oh, mollalo! Ok. Adesso devo andare su a prendere i cavi. Vado a prenderli. E' lui, e' lui, e' lui! Il cavo, il cavo! E' lui? Quale cavo? Qua, 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 qua. L'hai preso? No. Aspetta. 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 Preso. Ok. Adesso devo andare a prendere quello rosso. E' lui? Sì, arrivo. No. Aspetta. Ok. Ok. Che gioco di squadra, oh. Non l'abbiamo mai fatto così per in vita nostra. Sti cavi merichini, aspetta. Ok. Oggi è così. Sì, no? Aspetta. Ok. Vai, attacca quel cavo. Non è una bacchetta magica, dai che ce la puoi fare. Ok. Aspetta che... Oh. Sono leggermente... Infilato nei piedi. Vabbè, vai. Se riesco a... Bimbo! Ok. Visto siamo ritornati qua. Che gioia. Eh, sto pensando cosa dobbiamo... Ah, già, i cavetti piccoli qua, ti ricordi? Dobbiamo attaccare questi. Quindi, mi sa che... Quella cosa che c'ha il tipo sulla mano. Il tipo sulla mano. Questo. La statua. C'è la batteria. Capito, ma come ci arriviamo là? E il ponte? Aspetta, aspetta. Aspetta, aspetta. Guarda, guarda, un'idea. Eh? Ma così ci... Vabbè. Tanto ormai. Vai. Prenditi la batteria. Prego. Sei qui? Eh, sono di là. Adesso ritorno. Dai, che c'era tutto il parkour. No, non posso più venire. Senti, fai il salvataggio lì. Entra, la porta. Salvataggio, esatto. Uh, qua dobbiamo mettere il carbone. Che cosa bella. Oh, Maria Santa. La parte. Dobbiamo andare a prenderlo, però. E qua c'è del carbone. Vai. Non so se è abbastanza, sai. Vai, chiudi. Aspetta, un attimo, aspetta. Dei chiudere il coperchio, sennò non entra. Ok. No, mi ha dato il carbone. Prenditi il coperchio. E niente. No, vabbè. Facciamo così. E vado dentro nel forno. Ok, uno è andato. Bambini, non fatelo a casa. Eh, non penso che hanno questo tipo di forno. Spero di no. Ecco, brava. La strega è nel forno. Stiamo registrando il red. Immagino che ti dice non me ne frega niente, c'ho fame. No, è mia madre che ha chiamato il red e io ho detto stiamo registrando. Allora. Pien. Ok. Si. Opa. ok pensavo che ti avessi messo il carboncino no più che altro dicevo cosa ti è successo ok adesso fermati lì che arrivo aspetta aspetta hai fatto? no un attimo sto avendo problemi con sta cavolo di di leva metti sul nastro e li fai andare metti sul nastro e li fai andare ti procedo a piedi dobbiamo riempirli tutti e tre ah giusto ti serve anche la torcia mi sa perché li devo bruciare vado a riprendere la torcia ok lì non ho ancora fatto ah non ce n'è dai e non sapendo qua mettine uno per volta per primo ah ne avevo due ho tre dentro aspetta aspetta ah dove è ok ok mettine ancora un po' questo non serve più comunque madonna santa uno è andato manca questo manca questo oh ce la faccio aspetta un momento ce l'ho fatta no ce l'ho fatta no ce la stavo facendo finito niki uno ila zero dai vabbè però hai fatto il camioncino mezzo punto te lo do due camioncini ho fatto mezzo vs sono ho l'o questa e sono qui ah io l'ho l'ho lho l'ho l'ho